leggiamo cosa avete proposto al vostro scrivacchino allora la locanda delle storie la locanda delle storie era il nome portato da un certo posto di proprietà di hector personaggio piuttosto conosciuto nella zona per il suo essere vivace e pieno di voglia di partire dall'avventura desiderio che però era sempre rimasto tale per portare avanti l'attività lavorativa di cui certo necessitava essendo padre di una figlia piccola e che doveva essere istruita in una buona scuola nonostante tutto aveva udito più avventure della maggior parte delle persone presenti in quel vasto continente del regno tutti i giorni e a tutte le ore un qualche avventuriero si fermava per una sosta ristoratrice e chiacchierava volentieri con il proprietario ector questo poteva confermarlo aveva udito le più strambe storie e ognuna l'aveva sorpreso a suo modo storie di cavalieri che nel tentativo di salvare una qualche bella principessa ci avevano quasi rimesso il loro migliore scudo o la loro spada preferita nani che avevano passato la vita a collezionare cimeli preziosi e dirvi che beh volendo essere sinceri e il film raccontavano mai cose troppo interessanti dato che passavano la maggior parte delle giornate a cantare canzoni dal significato recondito e che solo il loro popolo poteva comprendere cose troppo complicate per una persona comune come ector infatti in quel regno le persone comuni si erano perfettamente mescolate con personaggi provenienti da luoghi creati dalla pura fantasia inizialmente vi fu un grande affare per ordinare il tutto e cercare di capire che provenisse da quale luogo alla fine decisero che poco importava se un fauno saltava fuori dall'armadio se un elfo compariva magicamente in un territorio di pubblica proprietà con tutta la sua villa o se una persona come ector ancora svolgeva una normale attività come quella dopo tutto le cose siano fatte molto più interessanti e a tutti andava bene così non vi erano guerre da molto tempo ma la maggior parte degli abitanti riusciva sempre a trovare qualcosa di interessante da fare da scoprire e ci mancherebbe tenendo conto di tutti gli oggetti magici ed edifici che alle volte comparivano scomparivano persino camminare lungo al sentiero conosciuto poteva trasformarsi in un'avventura ector però continuava a coltivare questo suo sogno di prendere e partire verso qualche luogo distante dalla sua solita ben conosciuta zona un bel giorno un ilfo scostò nella sua locanda sostò nella sua locanda in un tardo pomeriggio di una giornata primaverile l'ambiente era curiosamente pieno di clienti e a capitare poteva solo far che piacere un po di ulteriore compagnia non è la prima volta che ci vediamo vero domandò ector mentre puliva un bicchiere con uno straccio vedo che ha una buona memoria signore ebbene non ha torto giunsi in questo stesso luogo 35 lune orzono e mi fa piacere gli affari vadano bene immagino dunque che rammenti anche della promessa che le avevo fatto quel giorno promessa? si mi pare di ricordare qualcosa aveva detto che caso in cui la missione fosse giunta un positivo esito lei sarebbe tornato con un regalo rammentò ector ridacchiando esattamente e dato che passavo di qui ho immaginato potesse essere giunto un momento essere il momento migliore per consegnarglielo una volta conclusa la frase l'elfo estrasse dalla sua borsa un grande tomo dalla bella copertina sulla quale vi erano illustrati diversi dettagli come animali esotici e posti che ector non aveva mai visto veduto veduto prima è sicuro di volermi regalare un libro del genere sembra molto prezioso o lo è ma è solo per la persona giusta che riesce a cogliere nel vero valore e pensate che posso essere io come mai domandò ector ector sinceramente incuriosito mio caro amico voi avete la pazienza di un buon ascoltatore e la fantasia di un grande cantastoria vi sentivo sapete quando raccontavate le vostre vicende ai clienti della locanda pur non avendo mai messo il naso fuori da qui credevate forse che non avrei fatto caso a un particolare del genere ector sorrise adesso aveva capito tutto desiderate dunque che io riempa queste pagine bianche con le mie storie ah ma non delle storie qualunque voglio che parlino di viaggi avventurosi tante da poter riempire 35 sere nella vita di un piccolo elfo che ha sentito ben parlare di voi dal sottoscritto e che preso dalla curiosità ha richiesto questo vostro piccolo servizio pensate di poter accontentare il desiderio di un bambino questo piccolo ha ben riposto le sue speranze signore spero di essere degno del compito affidatomi anche se non sono proprio sicuro di poter adempietare il lavoro in quanto tutto ciò che invento non ha quasi mai delle basi solide direi che questa è la parte più interessante non trovate coloro che immaginano senza freni non hanno alcun limite di conseguenza possono inventare tutte le storie che vogliono hector annui estasiato da quel giorno o meglio da quella sera tentò di ritagliare sempre alcune ore alla scrittura di storie che potessero compiacere i desideri di un piccolo ilfo solo a quel punto si rese conto di quanto in realtà nonostante non avesse mai messo il naso fuori dal villaggio in cui la sua locanda si trovava avesse viaggiato davvero molto seppur solo con la fantasia a parte errori di battitura quella sembra una favola sembra una storia disegnata ai bambini no si sente in particolare in questa cosa qui che c'è la morale e vuole trasmetterla alla fine mi ricorda un po tipo le fiavi di bed al bard ok onestamente non è brutto solo che allora a parte gli errori di battitura quella a parte gli errori dati da forme colloquiali e o gergali di vari posti messi quella tipo ogni tanto viene utilizzato una preposizione dove non ci dovrebbe essere ne avevo notati un paio non me ricordo ora però ci sono un paio di cose tipo uscire il cane e pisciare il legato fondamentalmente non così gravi ma di tanto in tanto si sente una forma colloquiale e soprattutto manca manca la parte interessante nel senso tutta la storia ha luogo all'interno della locanda e ci può anche stare perché la storia che vuoi raccontare questa ma devi tirarmi fuori dalla locanda devi raccontarmi una storia che possa aver affascinato così tanto l'elfo da tornare e chiedere all'hoste di condividere le sue storie con il figlio ad esempio quando dice utile più strambe storie e mi aspettavo delle storie strambe appunto cavalieri che nel tentativo di salvare qualche bella principessa ci avevano quasi rimesso il loro migliore scudo la spada preferita non è una storia stramba nani che avevano passato la vita con le scimmie preziosi non è una storia stramba è un pregiudizio del genere fantasy e i gilfi che non raccontavano non è una cosa stramba cioè nel senso mancano manca l'interesse manca la parte di cantastorie te mi stai descrivendo questo personaggio come un cantastore mi stai descrivendo questo personaggio come un personaggio che sfugge sfugge alla malinconia della vita quotidiana con la fantasia ma mi manca questa storia quindi se già mi avessi fatto l'esempio di una storia tipo una sera quando l'idromele aveva mai fatto effetto e tutti si stavano riscaldando al fuoco che crepitava nel focolare si vise lì e raccontava la storia di un giovane drago che soffriva di bruciore di stomaco cose del genere no così che ti facesse capire anche che ad esempio essendo una persona che desiderava l'avventura ma che non l'aveva mai vissuta in prima persona la sua visione del mondo avventuroso là fuori era limitato a quello che uno può fruire dalle storie c'è una frase che io utilizzavo sempre quando ho provato a scrivere questo romanzo fantasy a puntate che avevo detto i bardi non cantano che mi sembra l'avoletta in game of thrones che i bardi non cantano dell'odore di sangue e del pulso di putrefazione dell'odore del dolciastro della morte non parlano del sapore di metallo di sangue in bocca bla 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 parlano solamente di draghi cavalieri di principesse e di bardi di fatto ma l'avventura è ben diversa e quindi potete capire che la sua visione del mondo è in realtà infantile perché magari è la visione che di quella che gli raccontava il padre tipo racconti incantati non so se avete mai visto il film quindi a quel punto ci starebbe che l'ilfo è condizionato a chiedergli di scrivere un libro per i figli perché le avventure che racconta lui sono scevre dall'orrore che si può celare in una vera avventura nel senso quando penso a una locanda e penso a un al gestore di una locanda che pulisce distrattamente il bicchiere con uno straccio che immagine cioè fresca e nuova per carità mi immagino che le storie che circolino in una locanda non siano proprio scevre di impurità linguistiche o leggere da sentire sono tutti gente ubriaca che fa casino e spacca i boccali e rutta e scoreggia e si mena cioè nel senso non sono storie che fare sentire a un bambino non è brutto è nel senso però non è neanche bello nel senso la storia è un po' fine a se stessa mettiamola in questo modo due tigri vediamo un po' il caos calmo della guerriglia aveva come sfondo la neve che cadeva forte senza intervalli mentre lo scontro si consumava bagnava i corpi fradici dei combattenti tingendo di bianco i loro ultimi spasmi esercito delle montagne arretrava lasciando dietro di sé l'accampamento allestito di fretta paregno di ghiaccio e terriccio gli uomini vestiti da tessuti differenti danzavano insieme col ritmo dettato dalle spade della fanteria che cozzando con gli scudi avversari producevano una melodia triste fatta dal sibilo delle anime che lasciavano i propri corpi gettati in pozze di sangue lo sguardo di ivane eulerio sovrastava i superstiti che ancora ingaggiavano battaglia mentre le retrovie si dirigevano collegiumente verso la foresta lontana leghe si usa le leghe sulla terra come unità di misura non è una cosa puramente del mare il suo braccio si pigò obliquo verso l'alto toccando l'orecchio sinistro fino a dirigersi dalla parte opposta sferzando l'aria andò imprimere il suo colpo mortale sul soldato a piedi in diverse uniforme entrando a metà del collo poi lo sfilò rendendo la spada di un rosso purpureo la giumenta su cui era posto continuò a trottare cercando di raggiungere l'ennesima vita da tranciare questa parte qui è spiegata veramente male si capisce niente di del momento il prossimo bersaglio era pochi metri dopo strigliò il cavallo che tosto guadagnò terreno per raggiungerlo e svolgere la stessa manovra e fu vicino quando tese la lama in alto ma sferzandola verso il basso colpì un punto vuoto tra l'altro lui dice mutamente ora che si piegò in obliquo verso l'alto toccando l'orecchio sinistro è che non capisco come funziona il gesto che fa non è questo gesto il gesto che fa con la spada perché dice che toccando l'orecchio sinistro di chi? innanzitutto il suo tipo fa così e si tocca così ma poi sferza e taglia la gola entra a metà dal collo dal collo non c'è più scona sega ragazzi questa parte qui andrebbe discritta completamente gli fu vicino quando tese la lama in alto ma sferzandola verso il basso colpì un punto vuoto lo sentì sgusciare nella direzione opposta era riuscito a sfuggire dal fendente con una capriola tra l'altro ragazzi mi dispiace ma io vedere un soldato in armatura che fa una capriola giusto su dark souls lo vedi eh però va bene e ora ricercò di far muovere il cavallo che non reagì prontamente mosse le redini e lo strigliò quando una freccia lo colpì sul braccio sinistro l'animale è nitri e il terrore si impagno di decodrupede anche perché mi spieghi che sta facendo lui su un cavallo e camminando metro dopo metro per combattere contro la gente a piedi cioè che senso che senso ha nel senso dice è a pochi metri di distanza devi strigliare il cavallo per raggiungerlo non puoi combattere a piedi è chiaro che la cavalleria contro la fanteria ha senso nel momento stesso in cui la prendi ai fianchi ma un cavaliere solo in mezzo alla gente è uno schifo viene massacrato l'animale nitri e il terrore si impagno di quadrupede ma non ha colpito lui perché si impazzisce il cavallo lo sbalzato via mentre vide di sottecchi quel giovane guadagnare terreno con la spada in pugni distinto sollevò il braccio destro a ripararsi il viso mentre la spada che leggeva si piegò orizzontalmente riuscì a incassare il fendente nemico ma il colpo che si abbattì su di lui lo fece tremare sentì la freccia entrare ancora di più nelle carni cercò Bocconi di prendere aria mentre con la mano sinistra aperta toccò il terriccio in basso o perché la freccia è entrata di più nella carne perdonami questa resta da perno mentre le gambe imprimevano la forza necessaria per acquistare la posizione retta ma fallì sentì un alto colpo infrangersi sulla spada che quasi sfilò dal pugno chiuso e tirò di nuovo la terra fradice il freddo pungente tartassava incessantemente mentre gli altri il freddo pungente lo tartassava incessantemente mentre gli altri prendevano la forza necessaria prendevano la forza necessaria a compiere i più basilari movimenti questa volta riuscì a pararlo consapevolmente congiungendo ambo le mani in un abbraccio fatale nel manico della spada fece forza in direzione opposta del colpo che fallì di nuovo nel colpirlo ragazzi io capisco che quando scrivete una storia fantasy o storica perché ancora non ho capito se queste fantasy potrebbero benissimo essere una storia storica l'idea è che il registro linguistico che dovete utilizzare è arcaico è ricercato perché dall'idea cioè nel senso stai raccontando una storia una battaglia antica quindi è più epica rispetto a una battaglia moderna ma la cosa più importante quando descrivete un momento di scena un momento d'azione un momento di battaglia non è atteggiarsi utilizzando un vocabolario ricercato soprattutto se ti dimentichi poi determinate parole e non è perfettamente comprensibile ma la cosa più importante è che sia appunto comprensibile una scena d'azione non mi può far fermare mentre la leggo per capire cosa succedendo perché non riesco a capirlo perché deve essere veloce deve trasmettermi il senso il ritmo deve trasmettermi la frenesia del momento non posso rileggere tre volte lo stesso paragrafo di combattimento perché sto bloccando il combattimento in questo modo capito? congiungendo ambo le mani in un abbraccio fatale nel manico della spada cosa vuol dire? che prendi la spada da due mani? di questo non c'è bisogno di porla in questo modo fece forza in direzione opposta al colpo che fallì di nuovo nel colpirlo un liquido rossasto che gli colava dall'alto cominciò a unirsi lungo le rigature della fronte e l'ambiente si trasformò di rosso capì che si era ferito il soldato nemico non si fermò la stessa manovra cercò di colpirlo ma questa volta fu pronto ad anticiparlo fece forza col busto cioè adesso è stato ferito alla testa perché si accorge perché gli cola il sangue sugli occhi fondamentalmente e e poi il combattimento torna normale e lui riesce anche ad anticipare il nemico se volete sapere quanto è un dito in culo combattere con il sangue negli occhi provate a chiederlo a un pugile e vedrete che non vi dice ah no continui come se non fosse niente fece forza col busto lo piegò verso sinistra mentre il fendente stava per raggiungerlo lo piegò verso sinistra mentre il fendente stava per raggiungerlo piegò le gambe flettendole poi nella direzione opposta hai detto piegò tre volte perché hai messo piegò piegò e poi flettendole vuol dire piegandole di nuovo si tuffò riuscì a schivare distrisciò la spada hm ti decidi a morire vecchio la voce del giovane era delicata certo la voce delicata per mezzo al fragore della montagna lui lo sente sembrava come volerlo accompagnare dolcemente verso l'altro lato come i chierici della cattedrale chiamano la morte lo squadrò velocemente il corpo minuto più basso e molle del suo contrastava con la tenacia con cui cercava di abbattersi sul suo corpo l'armatura di spine dei popoli del nord gli proteggeva la schiena i pettorali rinforzati fin sopra il ginocchio sono io o c'è qualche problema anatomico in questo senso cosa vuol dire i pettorali rinforzati fin sopra i ginocchi cioè le tette cadenti tantissimo lasciando dei punti scoperti per lasciare spirare l'armatura chiaro perché è un bonsai l'armatura deve respirare e dare modo di reggerne peso non per permettere alle articolazioni di muoversi no gli spazi nell'armatura in cui di solito c'è lo spazio anche nella cotta di maia è tutto no non è fatto per poter muovere le articolazioni e quindi combattere è fatto per far respirare l'armatura magari vuol dire quello se non hai busto e culo non è colpa di nessuno un elmo di ferro gli copriva metà del viso lasciando scoperta la bocca per respirare chiaro un fascio di funi chiedevano all'altezza dell'ombelico un metallo rossasto che gli circondava ogni lato aveva una placca di metallo attorno all'addome cosa vuol dire dai suoi studi militari gli scolari avevano ipotizzato se trattasse di un metallo resistente prodotto delle montagne ma occorreva la voce che fosse magico destò via questo pensiero sentì la presa della mano sinistra lasciarlo la freccia sul braccio scavò via la razionalità dal muscolo e capì che non riusciva più a controllarlo il soldato se ne accorre tanto la freccia è praticamente un forasacco cioè continua ad entrare sempre più dentro non è che tende a cadere fuori o rimane bloccata nella carne continua ad entrare sente l'umidità e nuota fondamentalmente che c'è? la benedizione che il tuo imperatore vi dona prima della battaglia ti ha lasciato? ora ti renderò finalmente libero schiavo di mistria ragazzi è una guerra è una battaglia porca puttana è una battaglia non ci sono queste chiacchiere in una battaglia non senti un cazzo in una battaglia non c'è il tempo di fare pasticcini anche perché c'è tutta gente che combatte intorno a loro cos'è che hanno fatto? cerchio e li stanno facendo combattere tra di loro non è un duello è una battaglia cazzo mi hai detto finora che era una guerra ma non ci può essere questa fase qui di chiacchiere mi puoi dire vuoi farmi questa parte qui? fammi che ne so che lui vede questo soldato correre verso il bosco o correre verso le retrovie che si andavano ritirando lo insegue col cavallo a meno dai un senso al fatto che ha un cavallo e si scontrano nel bosco da soli a quel punto mi puoi fare tutta sta scena qui ma in mezzo a una battaglia non ci si mette a fare i tè biscottini ma di cosa stiamo parlando? ma nessuno gli sta dando una spadata nella nuca a tutte e due boh ma poi neanche muori troiaio che c'è la benedizione che il tuo imperatore vi dona prima della battaglia ti ha lasciato talto ora ti renderò finalmente libero schiavo di mistria cercherò di fare forza nel pugno per mantenere la presa della spada stretta ma il nemico scattò nella direzione opposta la stessa in cui la freccia gli lacerava il braccio portò la spada inconsciamente in quella direzione mandorale lancinante lo fece urlare mentre la freccia si faceva stare dalla carne viva io voglio cercare freccia che si muove nella ferita sì ma siccome la seconda volta dice che si fa strana cioè mi sembra un po' strano cioè nel senso magari è una punta particolare ma me lo vuoi dire allora se anche così fosse meno male non vi sto facendo vedere la ricerca che ho fatto perché sto vedendo cadaveri fondamentalmente quindi vabbè l'arco che ho io in realtà era di mio padre ed è un arco storico fatto da un solo da una sola parte di legno è la punta della lancia di Elboa esatto chiaro cioè palesemente quella del principe elfico cioè ci vuole la morte per tirarlo fuori già fatto senti la gamba sinistra crollare quando il soldato è introdotto di spine lo calciò all'altezza del tallone gli è dietro il soldato cioè allora sono immagino uno davanti all'altro lui scatta prende la spada l'altro gli scatta a sinistra lui urla ah gli darà un calcio tipo da dietro magari tipo gli è andato di fianco e gli dà un calcio tipo quello da karate no dietro immagino non ha senso dare il calcio al tallone di solito lo dare alla caviglia però va bene può essere guarda questo gli voglio dare beneficio del dubbio perché è l'unico modo che lo capisco il progetto si è andato la pelle come il tonno gli hanno tirato un gressino gli hanno tirato ma poi c'ha l'arma in mano perché gli è dovuto dare un calcio non si stava neanche difendendo però vabbè stava cadendo di schiena la spada lasciò la sua stretta rendendolo nudo come un verme immagino era armato solo di spada non aveva un'armatura come ogni soldato e senza la propria arma questo è il mio fucile ce ne sono tanti come lui ma questo è il mio aveva fallito di nuovo un generale di battaglia la guida di mille soldati ucciso da un giovane delle montagne e un generale in battaglia la guida di mille soldati affronta gli uomini in uno v uno cioè e non c'è nessun soldato che va a aiutare il generale che sta combattendo contro uno ma seriamente dai ma in fondo l'aveva sempre saputo che la sua vita era sempre stata uno scherzo una farza cui gli dèi avrebbero posto presto fine spero che la tua prossima vita avrà una fine migliore disse il giovane mentre tirava fuori un libro e gli leggeva la favola della buonanotte lo scintilio del metallo argento fece riflesso con la luna piena mentre la spada cadeva svelta perpendicolarmente squarciagli lo stomaco perpendicolarmente a cosa innanzitutto perché perpendicolarmente vuol dire che rispetto a un piano perpendicolare a cosa e poi lo stomaco lo squarci così non lo squarci così e non c'ha un'armatura comunque boh eolera chiuse gli occhi aspettando di non aprirle mai più e beh ragazzi non volevo essere duro ma credo di aver detto abbastanza su questo racconto andiamo al prossimo il sogno era una notte temporalesca il cielo si illuminava di tanto in tanto con lampi bianchi come il latte e la dolce quanto forte musica dei tuoni e cheggiava nella città di Creight nel sud di Weston Town nella parte alta vi abitavano i più ricchi le loro ville si potevano ammirare da un chilometro di distanza le loro luci la loro maestria nell'architettura erano le cose le case più belle di tutto Creight chilometro di distanza punto le loro luci con le loro con le loro luci e la loro maestria dell'architettura erano le case più belle di tutto Creight oppure le loro luci le loro maestria dell'architettura due punti erano le case più belle questa terza frase non è non fa parte di questo elenco qua quindi non va bene in una di queste ville che si era collocata perfettamente nel centro del distretto vi abitava la coppia Grout composto dalla signora Evie una giovane donna con due grandi occhi verdi incastonati in un viso pangoroline ma è pallido con un piccolo naso a punta e due labbra rose tutto ciò incorniciato da dei lunghi capelli neri come carbone vi abitava la coppia vi abitava la coppia Grout composto dalla signora Evie descrizione della signora Evie e poi ho capito che del marito parli dopo ma se lo inizi qui vi abitava la coppia Grout composto dalla signora Evie e dal marito Axel la donna aveva due grandi occhi veri incastonati ma mi vuoi finire la descrizione? sì vabbè ormai ormai non ve lo dico più neanche che le descrizioni anche prima che tutta la parte della battaglia solo dolore e aspetti visivi niente di mai nient'altro di sfera sensoriale ormai non lo dico neanche più guarda purtroppo la signora era costretta fino all'inizio infanzia su una serie rotelle ciò le impediva di fare attività fisica e di conseguenza aveva un corpo molto esile insieme a lei conviveva il marito Axel un uomo dalla corporatura di poco magra con braccia sottili come stuzzi cadenti e un viso scavato da cui sbucava un lungo naso bella una bella coppia due piccoli occhi neri che sembravano dei bottoni caratterizzati da delle lunghe ciglie lunghe ciglie l'unica cosa del volume al suo volto dato che non aveva tanti capelli era la folta barba tendente al color rame l'unica persona a occuparsi dei bisogni della coppia e di mantenere la casa in ordine era Cristi la domestica una graziosa giovane ragazza nel suo volto dai lineamenti quasi fiabeschi erano allocati due grandi occhi azzurri come c'era d'estate nessuno ha ma gli occhi marroni nei racconti o verdi o azzurri o etero cromatici perché l'eterocromia ah quanto è bella ma gli occhi marroni come c'era d'estate due labbra di color rosso ma senza bisogno di un rossetto un piccolo naso c'è un naso piccolino tranne il marito Axel c'ha una zona a contrabilanciare e dei lunghi capelli biondi l'interno della villa era redata con buon gusto con un mix tra stile moderno e antico tante stanze tutte su un solo piano più di quanto non possono servire a una coppia io ancora non ho capito in che periodo storico è ambientato se è una storia fantasy vediamo un po' la signora Evy era nella sala che guardava un programma di satira in televisione non c'è un dirisato ma con lo sguardo fisso quindi è ambientato a giorni nostri caristi urlò la donna caristi mi accompagni in bagno per favore nessuna risposta Evy continuò a chiamarlo fino ad urlare il suo nome che ho anche il marito che in quel momento stava scrivendo il suo ultimo libro nello studio finalmente Cristi giusta in sala la signora Groot la sgridò per il suo ritardo notando un'espressione di media freghismo negli occhi della ragazza e notando anche i capelli scompigliati e il visistito sgolcito a quel punto nel cervello della povera signora cominciò ad affare dei brutti pensieri sulla domestica e sul marito chiara insomma invece dormiva castani color nocciola dai c'è bisogno di color neri come il marito c'ha gli occhi neri come una formica ma le donne tutte azzurre e verdi o d'oro e viola ma figli dopo aver finito nel principale servizio di casa cominciò a far domande alla domestica caristi dov'eri quando ti ho chiamato poco fa qui ci vuole la maiuscola stavo sistemando il letto della vostra camera signora mi perdoni ancora rispose la domestica con uno sguardo impaurito a quel punto Evi notando che la domestica era nervosa si convince che c'era qualcosa che le nascondeva si riesce a accompagnare lo studio del marito ma durante il tragitto sentiva la ragazza far fugliare qualcosa percepiva che era nervosa e spaventata arrivate davanti all'ufficio del marito Evi intimò a Cristi di andare a finire il lavoro e poi di preparare la cena ma vide che la domestica rimase impassibile come se di punto in bianco avesse perso lo dito la guardò e vide che fissava un punto preciso seguì lo sguardo fino ad arrivare nello specchio appeso in fondo al corridoio dopo questo in un solo periodo quanto è lungo sto periodo e quante frasi ci sono dentro non capendo cosa stesse fissando la sgridò e con un balzo che li stessi di essere subito a fine dei suoi doveri lasciando sempre più dubbiosa la padrona sì ma a questo punto diventa il sospetto che sia scema ok non che sia non che sia abbia l'attriscato il marito Evi chiamò il marito capì la porta del suo ufficio e accompagno la moglie dentro la signora domandò al marito non prima di notare disordine sulla sua schiavania caro poco tofatto e chiamato e credo che tu mi abbia sentito probabilmente anche i vicini dei vicini mi hanno sentito perché non hai risposto il marito si stavano la schiavania rispose brigativamente tesoro era fra un pisolino in camera e udendo quelle parole come un punto scammativo comparve sulla testa della signora editato Metal Gear Solid ma lasciò perseguire il marito sai non riesco a trovare idee per proseguire il libro mi è venuto un gran mal di testa puoi perdonarmi va bene amore tranquillo rispose Evi con fare sospetto nei suoi occhi con fare sospetto nei suoi occhi quindi c'era Evi che stava tipo la puntata sera di Simpson che c'è il cane che guarda a destra e a sinistra la signora non riusciva a smettere di riflettere sulle parole di tal marito come avrebbe potuto essere sul letto della camera matrimoniale se la domestica in quel momento lo stava sistemando domande senza risposta affioravano nel cervello della padrona di casa arrivata la sera dopo cena Evi mise in chiaro le idee e capì che probabilmente il marito la tradiva con la domestica anche se rimanevano dei punti interrogativi era notte fonda ormai tutti riposavano beati ma un rumore svegliò Evi spaventato d'istinto si girò verso il marito cercando lo sguardo dell'amato che potesse tranquillizzarla ma quando realizzò che il Axel lì non c'era il Axel cos'è questa cosa qui è la forma colloquiale tipo il Paolo perché per favore ragazzi si spaventò sempre di più udì altri rumori continui colpi forti fino a quando non smisero poi silenzio tra l'altro se io sento il rumore e mi giro e vedo la mia ragazza che mi fissa mi cago addosso a cercare lo sguardo senza sì ma se ci fosse stato marito sarebbe stata una grande ripetizione comunque il marito ancora non si presentava passavano i secondi i minuti il rumore dell'orologio che contava ai secondi si faceva sempre più fastidioso a quel punto si decise si alzò in silenzio e con fatica riuscì a strisciare verso la sedia si alzò in silenzio cosa si alza che non può alzarsi cioè si gettò dal letto praticamente si sedette e con gli occhi terrorizzati uscì dalla stanza e si riesce verso la camera dalla quale provenivano rumori scopare era quella della domestica avvicinò l'orecchio alla porta e sentì delle voci dei bisbigli che riusciva a comprendere sembrava quasi il sibio di un serpente oh no un urlo raggelante fece sobbalzare la signora poi una botta pesante come se fosse caduto qualcuno a terra spaventata via la porta e spalancando gli occhi dall'orrore lo spavento vide il marito rivolto sul pavimento nudo poco più a destra inginocchiato sul pavimento fissando un punto vuoto c'era Cristi nuda come il marito che bisbigliava qualcosa al soffitto e vi terrorizzate pianse il marito più in un posto urlò e cadde sopra di lui quanto si sbrigativa tutta questa parte sollevando il capo col viso solcato dalle lacrime e vide Cristi con occhi spalancati e un sorriso agghiacciante è diventato è diventato paranormal activity il suo volto non era più fanciullesco aveva la bocca della quale mise un suono sembrava il bezzo di un animale straziato un corvo si scagliò con le mani sul collo della padrone e la strozzò Cristi ancora in quello stato lasciò cadere il colpo di Evie sopra quello del marito e poi come se niente fosse si mise accanto a loro chiuse gli occhi con il sorriso stampato in volto e si addormentò ho detto abbastanza anche in questo caso è bruttino ok fondamentalmente è scritto male è estremamente sbrigativo dopo siamo a metà fra una creepypasta e una storia scritta da un ragazzo molto giovane e tutta la parte della descrizione della città era completamente inutile chiara non mi ha fatto neanche capire cioè dalla descrizione della città sembra che stessi parlando di qualcosa ambientato nell'ottocento però vabbè sacrificio l'ultimo che mi avete mandato questo capitolo è tratto dal prologo di un libro fantasy in fase di scrittura sono molto contento di queste cose perché non è che ho ripetuto in maniera spasmodica di non scrivere fantasy o di scrivere fantasy solo quando avete maturato una marea di esperienza però che sono io per decidere qui è bello vedere che l'ottanta per cento delle opere che mi avete mandato sono opere fantasy e che c'è una cosa di berserk in copertina le luci della candele nella sala piroettavano nel riflesso della vasca come se fossero state legate ad essa e si stesse ora ribellando a quella dittatura sul filo stesso di quel liquido scuro sottili increspature tracciavano il movimento del suo corpo immenso intorno alla vasca si era radunati almeno una decina di fedeli idossavano tuniche bianche cappucci di seta appoggiati sulle teste però più spoglie le teste sono spoglie pelati quindi calve al massimo cosa vuol dire alcuni di questi reggevano con ambo le mani sottese in avanti perpendicolarmente al torace alcuni trappi bianchi cosa vuol dire sottese in avanti perpendicolarmente al torace sottese è un verbo perché io proprio non l'ho mai sentito ma sono probabilmente ignorantissimo io in geometria un arco di curva unire con un strumento a recline intende questo? ognuno di loro offriva in sacrificio alle gemone il loro corpo la loro stessa esistenza la cerimonia era iniziata ad alcune ore la sala di forma rettangolare interamente rivestita di rocce laviche tagliate ad ascia in cuboni comodo deve essere particolarmente in cuboni tendere nella parte inferiore ragazzi visto che il drama che è successo ieri è proprio a livello di arroganza se io non so cosa vuol dire sottese e anche cercandolo non si trova immediatamente cosa vuol dire sottese tendere nella parte inferiore ma sottendere chi lo usa in questo modo cioè quando scrivete una cosa non deve essere un esercizio di stile per farvi le seghe sul fatto che conoscete i vocaboli ok semplicemente per questo ok poi se te mi rispondi in quel modo io ti do una bacchettata sulle mani ma poi la leggo la cosa non è che mi arrabbia e non si fa ok è bello avere un buon vocabolario però tenete conto che i vostri lettori non è detto che ce l'abbiano questo vocabolario quindi non è che dovete rendere tutto semplice e basilare non vi sto dicendo questo ma laddove può dare spessore a una storia bene dove stai già facendo una descrizione complicarla con dei termini che magari non sono molto utilizzati attenzione la cerimonia era iniziata da alcune ore la sala di forma rettangolare interamente rivestita ai rocce labi che tagliate ad ascia ad ascia in cuboni creavano una sorta di camera stagna la piscina che occupava buona parte della stanza era stata completamente riempita di olio nero cerimoniale l'egemone con i suoi discorsi e le sue promesse aveva raccolto dall'esterno del tempio dei ciechi almeno 8000 fedeli che bramavano che bramavano ora in una cantina notturna il ritorno del loro padre dal richiamo dei suoi figli che bramavano ora in una cantina notturna il ritorno del loro padre dal richiamo dei suoi figli mi mi sfugge un pochino il senso di questa frase cioè loro bramavano il ritorno del loro padre che è tipo il dio che ne so il profeta e così ho capito più o meno cosa vuoi intendere forse che lo evocavano a gran voce qualcosa del genere lo pregavano per il suo ritorno però questa forse la rielaborerei un pochino l'egemone si soffermò in silenzio al centro della vasca tanto prima sul filo stesso di quel liquido scuro sottili increspature tracciavano il movimento del suo corpo immenso ma il corpo immenso di chi? della vasca? perché l'unico soggetto che si è visto fino a quel momento era la vasca però non hai ancora parlato dell'egemone fino a questo punto quindi se te mi dai un soggetto sottointeso qui l'unico cosa che può essere legata è la vasca perché non hai parlato di altro fino a questo momento di candela e di vasca e quindi l'unico oggetto in prima persona può essere quello era quello che me l'ha rimasto sembra ti sto andando piano ci sto andando gli ho fatto quattro critiche su due paragrafi l'egemone si soffermò in silenzio al centro della vasca abbassando il capo e incrociare con gli occhi neri il suo riflesso poi anche sistemare un po' meglio le virgole era deformato dalle fioche luci che illuminavano l'androne del tempio dove si trovavano ma nonostante la scarsa illuminazione riusciva a intravedere i suoi stessi tratti si era smunto enormemente da quando il conflitto era iniziato le ossa dei zigomi erano emersi le ossa degli zigomi erano emerse dai lembi di carne ruvida perché il soggetto è ossa profondamente segnato dalle rughe aveva le labbra sottili il naso piccolo anche lui come quelli di prima la pelle pesante una profonda disgustosa pappagorgia si infilava nel collarino della tunica bianca in buona parte lordata dal liquido nel quale si trovava immerso sulla testa qualche ciuffo rado di capelli bianchi emergeva da una testa glabra ripetizione di testa piuttosto deforme schiacciata alle tempie non c'era bisogno di mettere sulla testa bastava mettere qualche ciuffo rado di capelli bianchi emergeva da una testa glabra piuttosto deforme schiacciata alle tempie fa veramente schifo per carità è un po' strano che abbia un enorme pappagorgia però abbia sia tanto smunto da far vedere le ossa degli zigomi però forse è proprio uno schifo d'uomo qualsiasi cosa avesse avuto in serbo i dèi per lui di certo non richiedevano una bella presenza se davvero il suo destino era di fare da tramite tra il loro mondo e quello degli umani allora di certo nella machiavellica visione divina anche il suo aspetto doveva aver avuto il suo ruolo la giovane donna a giovane scusa venne condotta in cima alla scalinata che conduceva verso il centro della piscina sembrava spaventata le gemone roteò il torace lentamente portando gli occhi neri al viso della donna ancora distante che era scortata rispettivamente da due uomini e due donne del medesimo rango tutti rigorosamente in tunica visto ma io parlavo delle ragazze quindi a meno che le gemone non venga fuori che sia una fanciulla anche lui non ha gli occhi sul torace ma se rotea il torace rotea anche la testa a meno che non sia un gufo di solito fece scendo ai fedeli di proseguire di accompagnarle tutti e cinque dopo aver superato la scalinata sai cosa se te rielabori un pochino la prima parte perché qui dici la giovane viene condotta in cima alla scalinata ma io non so in cima alla scalinata dov'è rispetto alla piscina perché visto che conduce al centro della piscina sta scalinata e lei è in cima quindi è in cima e deve scendere non è chiarissimo io la lavorerei un pochino meglio tipo dall'alto si aprì un portone e cinque persone si fecero avanti quattro trasciniamo di peso una così mi dai l'idea ok lui sta guardando verso l'alto e poi scende una scalinata e mi fai vedere anche la difficoltà del salire o scendere scale quelle che siano trascinandosi una persona perché comunque non è facile fece scena su fedeli per seguire nell'accompagnarla e tutti e cinque dopo aver superato la scalinata iniziarono a immeggersi nel liquido nero lasciando la donna solo quando essa si trovò a un metro dall'egemone lei era giovane non c'era bisogno di metterci in lei perché se dici era giovane ha viso sottile capisco che non parli dell'egemone gli occhi chiari la pelle ambrata eh sti occhi chiari però anche la mia protagonista nel libro ha gli occhi verdi quindi ve lo dico subito perché altrimenti l'insistenza di quel liquido nel quale erano entrambi immersi aveva costretto il vestito di lei a attaccarsi alla sua carne erano arrivate a diventare un fastidioso impedimento fornendogli la proprietà intrinseca dei tessuti a contatto con i liquidi di diventare più trasparenti Bianca avrei bisogno di alcune informazioni quanti anni hai cosa hai studiato nella vita e che lavoro fai se stai già facendo lavoro architettura perché la descrizione di questa cosa non è una descrizione di narrativa è una descrizione scientifica ok perché già l'utilizzo determina insistenza di quel liquido per far capire che le preme addosso no ma erano arrivate a diventare un fastidioso impedimento va bene ok fornendogli la proprietà intrinseca dei tessuti a contatto con i liquidi di diventare più trasparenti dai Francesco grazie mille del follo cioè non è un saggio può essere un saggio non lo so io lo sto interpretando come racconto magari è un saggio scientifico non lo so Simo grazie mille del follo cioè non lo so è come dire leggemone entrò nella vasca e grazie al principio dei vasi comunicanti le altre due piscine che si trovavano a due metri di distanza e che erano profonde otto metri cubi si riempirono di liquido a loro volta e l'uomo osservando le meraviglie della geometria e della fisica si girò tronfio nel suo aspetto a guardare la ragazza e di fare in modo che i dei potessero assaggiare quel sacrificio nella sua interezza leggemo nelle porze la mano scheletrica le sue dita sottili ossute erano rigonfine punti di articolazione quell'uomo era l'archimedia si misurava così la corona no il mio problema è questo se è un personaggio grottesco e deforme cioè però mi ha detto solamente che di deforme ha tipo la testa no ma se ma è uno che ha i zigomi pronunciati la pelle scheletrica ma poi c'è la pappagorgia però poi anche la mano scheletrica con le vite sottili ossute quindi perché non capisco se è grasso o meno è quello il problema la prima immagine che me ne è venuta in mente era questa del classico sacerdote pieno di ciccia perché è agiato mentre il popolo fa la fame però poi boh cioè sembra sempre più berserk sembra proprio tipo il sacerdote che picchia la testa sul pavimento e gli ha venuto la faccia quadrata sono un po' confuso quindi allora il discorso è questo se è un personaggio deforme e quindi questa dissonanza fa grasso e magro è voluta per questo motivo qui rendelo un pochino più palese se è legato alla mattia fai trasmettere che la pappagorgia è legata alla malattia tipo che non ce l'aveva avuta fino a quel momento poi ha cominciato a gonfiarsi senza motivazione tanto che alcuni l'avevano l'avrebbero accusato di del vizio della gola se non avessero visto le sue mani scheletriche e che magari lui era scheletrico apposta perché aveva smesso di mangiare per colpa di questo pappagorgio che sarebbe gonfiata che ne so che ora andremo a vedere avanti però che sia una malattia o che sia deforme per altri motivi cerca di far capire che questo questa dissonanza è voluta sarebbe meglio farlo capire prima che è voluta cioè che far capire prima il lettore non dicendolo chiaramente ma dire guarda ti sto descrivendo un personaggio che a tratti è grassa a tratti è magri ma c'è un motivo capito non non so cosa sto descrivendo perché mi dimentico da una frase dall'altra come è fatto semplicemente allora leggevo nelle porze la mano scalestrica le sue dita sottili ossute erano rigonfi qui metterei due punti comunque rigonfi nei punti di articolazione la pelle sbiadita sembrava invece oltremodo ruvida specialmente nel palmo della mano sembrava invece ah no dove la ragazza poco dopo poggiò la mano attenzione alle ripetizioni attenzione la condusse ad avvicinarsi portandola al proprio fianco e reggendole la mano nel mentre l'estremità del vestito bianco di lei era risalita in superficie e creava un mantello animato alle sue spalle allora o l'estremità del vestito bianco di lei che era salita in superficie creava un mantello animato alle sue spalle senza tutte queste virgole oppure l'estremità del vestito bianco di lei era risalita in superficie due punti creava un mantello animato alle sue spalle senza la virgole lei c'è un sorriso cercando di rassicurarla mentre l'accompagnava passo lento verso il limitare della vasca sul lato corto di quel rettangolo opposto alle scale dalle quali la ragazza era discesa all'interno della piscina si trovava un enorme stato a cariso elefantina appoggiata sulla relativa parete la stato rappresentava la dea mitra aveva il viso severo scolpito con una certa perizia rappresentata con il velo attenzione sempre alle ripetizioni gli occhi cavi le mani conserte sulle gambe li piegate in ginocchio a mo' di preghiera ok a me questa è un'immagine chiara che mi ha dato sotto la luce rossa delle candele che illuminavano la stanza il volto si animava di riflessi peculiari quasi come se quell'espressione severa giusta fosse messa al risalto dei contrasti di luce la vasca d'olio poi si rifletteva sulla base della statua facendole perdere il suo colore dorato fino al busto dove questo diventava più acceso e tendeva al rosso le ragazze si toccano la gemone la condussa alla base della statua lui gli fece cenno ahhh bianca no le fece cenno di poggiare le mani sulla superficie della stessa e lei cercò disperatamente gli occhi neri di quel vecchio che si specchiavano nei suoi chiarissimi la voce delle gemone era rassicurante marchiata dall'età incombente aveva un suono caldo profondo esaltato dal sottileco generato dagli ambienti in cui si trovavano il viso magro e incavato dell'uomo si contrasta in un sorriso e la ragazza alla fine annui la donna stirò le braccia avvicinò i palmi alla superficie riflettente della statua in quel riflesso distorto riuscì a intravedere la figura delle gemone e sfilarle alle spalle in un moto lento accompagnato da lieve muoversi dell'acqua ma non era olio devo mandarlo prima anedito si si me lo mandavi a me dicendo senti mi puoi fare la revisione prima che lo faccio leggere a te e ho preso eliti lungo il perimetro della vasca sollevarono gli stracci candidi che tenevano tra le mani iniziarono a cantinare una preghiera sussurrata fissando il volto dorato della diamitra sopra di loro che li guardava dall'alto verso il basso sfiorando il tetto di pietra di quella struttura primitiva la ragazza assaporò quel momento come se fosse nata solo per viverlo so chiuse gli occhi percependo il gelido della statua contro i palmi delle mani piccole femminili poi un brevido le attraversò la schiena nel momento esatto in cui le gemone le trapassò il torace con una lame entrandole con la punta nella fascia lombare fino a quasi all'acerare nell'alta estremità quindi da dalla base della schiena fino al petto in su nel senso sì ho sempre pure di trovare immagini così no perché siccome prima va corretto dicendo è italiano se dici di avere contura diciamo che la fila nel basso della schiena è verso l'alto il sangue si riversò a fiotti all'interno della vasca d'olio i vestiti della giovane vennero sommersi di quel liquido rosso che sull'olio tendeva a restare a galla perché la densità del sangue era maggiore rispetto a quella dell'olio risultando chiarissimo alla vista di un colore acceso sulla superficie torbida non lo so se si nota così tanto il sangue sopra un olio scuro però magari non andrò a puntare il dito contro questa cosa qui però magari l'è approvato e non voglio sapere se è approvato quindi la cantilena dei proseliti è ripesa con maggior vigore frattanto che l'egemone lasciava sfidare la lama diritta di un grosso pugnale fuori dalla voragine rossa che lui stesso aveva generato la ragazza rimase immobile qualche secondo poi si accasciò placidamente contro la statua perdendo ogni controllo di quel suo corpo ormai vuoto la madonna il sangue continuò a spargersi nella vasca come moltiplicandosi autonomamente fino a circondare completamente la figura esile dell'egemone che vi era ancora immerso le luci della stanza sembravano appesantirsi macchiarsi di rosso mentre i presenti vivi da partecipazione coprivano con le loro canzoni le urla di gioia di migliaia di fedeli all'esterno del tempio poi Mitra parlò o almeno così parve a chiunque si trovava lì dentro l'egemone abbandonò l'arma del delitto nel liquido dove si trovava sollevando lo sguardo a incrociare quello della dea che lo fissava dall'alto opprimendolo con la sua mole la voce dell'egemone tremava terribilmente roteò a fatica il torace in quel liquido torbido iniziando a muoversi verso la scalinata vuol dire che ogni volta che deve indicare il movimento di questo schifo rotea sempre il torace è tipo un action figure che rotea il torace ma tutto il resto rimane turnica però capisco cosa intende io avrei messo che magari cominciò ad avanzare nella vasca spingendosi prima con una spalla e poi con l'altra ok però è la stessa cosa solo che vista l'ha già usato prima che rotea il torace anche se è passato un po' di tempo è meglio evitare una ripetizione così precisa adesso chiuse gli occhi in quell'istante facendola vibrare la terra sotto di loro l'egemone aumentò il passo in preda al panico gli uomini attorno al piscina erano ciechi inebriati da quella cantilena in lingua antica avevano ormai abbandonato al suolo i panni cerimoniali e volgevano le mani a mo' di supplica in direzione dell'abnorme statua le acque della vasca ormai rosse iniziarono a ribollire così come il cadavere biancastro della ragazza offerta in sacrificio ancora orrendemente reclinata alla base della statua ribollisce ribolle che la sta allissando leggevano riuscì a guadagnare la scalinata sollevandosi con difficoltà anche a causa delle società avanzate da quelle acque torbide riuscendo a uscirne non senza incespicare sulle scale osservò per un attimo il volto vuoto dei suoi praseliti e continuarono a cantare contraendo la bocca come se fosse mossa a forza come se qualcuno stesse furgando al suo interno con delle mani guadagnò l'uscita dal tempo tra l'altro vediamo un po' se è una colpa mia o meno niente mi ero perso perché mi sembrava che lui si stesse avvicinando in primo momento e poi è andato via perché la rotazione del petto mi aveva confuso guadagnò l'uscita del tempo dopo aver attraversato in una corsa affannata a un grosso corridoio monumentale da dove le statue e delle varie divinità lo fissavano serie impossibili il suo vestito fradice d'olio rosso gli creava enormi gli creavano il suo vestito gli creavano enormi difficoltà in quel moto disperato mai come in quel momento il peso dei suoi anni si fece sentire percepiva le articolazioni delle gambe e venigli meno ed iniziò a zoppicare quando ormai pochissimi metri lo separavano dall'ingresso del tempio fuori non c'era molta luce il sole aveva abbandonato il cielo da poco e delle minacciose nube grigie avevano gettato nella penombra la collinetta su cui era arroccato il tempio costruito con grossi cubi di pietra aveva una struttura semplice di muri pieni a formare una scatola rettangolare sebbene sebbene le dimensioni del tempio fossero gargantuesche poco fuori da quell'enorme portale leggevano che non era altro che un uomo insignificante sotto la scalinata che precedeva l'ingresso del tempio migliaia di pezzenti attendevano con l'infiato sospeso le parole di quel vecchio che senza nemmeno accorgersene si era ritrovato di fronte a quella massa in forma di individui e allora disse fratelli che all'uccello per favore esca fuori dal tempo del signore poi mi piace questa parte funziona un sacco funziona molto di più rispetto a prima alcuni reggevano delle candele altri molti erano scalzi e avevano i piedi feriti dalla salita della collina prevalentemente rocciosa leggevano e li fissò con uno sguardo perso sollevò le sopracciglia bianche pelose portando gli occhi scuri al primo volto umano che riuscì a incrociare poi teatralmente sollevò le braccia quasi li volesse abbracciare a quel grido una lube nera eruttò dall'ingresso del tempio come un grido disperato di una madre che viene privata dai suoi figli li travolse li accecò tutti l'apocalisse stava iniziando molto meglio tutta questa parte dopo rispetto a prima a parte suggerimenti ti ho dato ancora una volta attenzione alle virgole perché tendi a usare dei periodi un po' articolati e a buttare un po' le virgole tipo go get money go get money go get money con tutte le virgole che volano so che non è facile usare una corretta punteggiatura però non è male attenzione a usare termini un po' un po' troppo ricercati ma per il resto se solo ci fossero le descrizioni degli odori e gli occhi scuri esatto usate tutta le sfera sensoriale fammi sentire il calore dell'acqua il bacio gelido del liquido e l'odore nauseabondo dell'egemone la schiva è troppo severa è il mio lavoro troppo